Vieni a metti i piedi. Mi reggi un secondo qui. Questo è difficile. Tieni la porta, tu lo metti la porta. Tieni la porta. Tieni la porta. Tieni la porta. Attenzione, la lista. Oh, brava. Bravi. Ciao. Ciao! Italia 1 Italia 1 Italia 1 Italia 1 Italia 1 Fai rimasto. Dov'è cazzo? Beh, questo non sarà un po' alla... Se io gli voglio bloccare... Non è che la fretta è appicciato. E poi c'è l'altro. Ecco c'è l'altro. Io con l'altro assenzione. Sei occupato, mi dispiace. Ma che io l'altro assenso? Ma che tu sei più occupato, mi puoi impiace. Cosa cazzo ce ne so? Beh, io mi sono dovuto mettere a pecora e uscire dalla... A pecora? Quanto sei dispiace? Non so se non ci sceglievo. E' più lungo ai cari di chi è scendere. Questo è il primo piano. E' inutile, è inutile. e qui riuscimmo a rivedare le stelle ma secondo me... ahah 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 no no eh io non ci ho dobbiamo di trovare ahah Italia 1 ahah ahah ah ah è ricordato dopo il terzo giorno non ci guida ma dopo però le stelle sono scomode ahah mi se ne frega si 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 Marocco ripresa questa è proprio la residentiva la residentiva è quella si si te capitava si infatti ho appena detto quello ho subito un po' di caso serviti quindi 령 e' una foto �agar a ragazzare gara servite vowa vorrei all'alarm si certifiche libero vo scelta la pi amma PASTA DI MANE DI GALLA Non sa che non dico, non dico! Stai che ti metti un po' di anni e ti vado a tenere in qualche settimana! Prego questa eh! Dai, dai i test! Potei ripensare! c'è l'accento ok operato ora carlera la polizia la valutazione la valutazione la valutazione 4 Grazie a tutti.